È stata per me una grandissima esperienza aver partecipato alla quarta edizione del Music Festa Florence. Abbiamo, in qualità di membro della giuria, giudicato e valutato molti gruppi corali e strumentali di altissimo livello, in una cornice fantastica quale è stata la chiesa di San Filippo Neri e l'auditorium di Santa Polonia. È veramente una grandissima esperienza.